Quel pomeriggio Alfredino non si trovava più. Era il 10 giugno del 1981. Ma come Andrea parli di Alfredino su Jopop che cosa c'entra? Lo capirete alla fine del video. I genitori avvertirono la polizia e i vigili del fuoco, cominciarono le ricerche. Verso mezzanotte cercarono il bambino anche in una villetta nei paraggi. In questa villetta c'era un pozzo con un diametro intorno ai 30 cm, quindi veramente minuscolo, e arrivava a circa 80 metri di profondità. I soccorsi si accorsero che Alfredino era caduto proprio lì. Lo sentivano. Dopo un primo sopralluogo capirono che nella caduta il bambino si incastrò a 36 metri di profondità, dove le pareti del pozzo praticamente si stringevano, quindi lui rimase incastrato. La prima cosa che tentarono di fare per tirarlo fuori fu calare una tavoletta legata ad una corda. L'idea era quella di fare aggrappare Alfredino a questa tavoletta per tirarlo poi in superficie. In realtà fu un grosso errore, perché la tavoletta purtroppo si incastrò intorno ai 24 metri di profondità e le funi si spezzarono. Praticamente il pozzo ora era ostruito, cioè tra i soccorsi e Alfredino c'era questa ostruzione. Alcuni speleologi cercarono di calarsi nel cunicolo per recuperare la tavoletta incastrata e quindi liberare la strada per ulteriori tentativi di recupero, ma non fu possibile. Allora il comandante dei vigili del fuoco ordinò lo scavo di un tunnel parallelo al pozzo. L'idea fu se non riesco a recuperare il bambino in questo pozzo artesiano, ne faccio un altro, parallelo, questa volta a una profondità maggiore, poi scavo una piccola galleria suborizzontale e me lo tiro da sotto e poi lo recupero attraverso questo secondo pozzo. La perforazione parallela fu fatta e fu completata alle 19 circa del 12 giugno. Purtroppo però quando si fa uno scavo, nell'intorno della perforazione chiaramente ci sono delle vibrazioni e se c'è un pozzo vicino come quello artesiano dove c'era Alfredino, questo può essere soggetto a cedimenti. La sera la perforazione arrivò a 34 metri di profondità, ma si scoprì che il piccolo non era più a 36 metri come all'inizio delle ricerche. Le vibrazioni del terreno evidentemente lo fecero scivolare più in basso. Solo successivamente poi si scoprirà che il bambino era a 60 metri di profondità, quindi era precipitato ancora di più. Gli ulteriori tentativi di recupero purtroppo non ebbero successo. Conosciamo l'epilogo. Il corpo di Alfredino Rampi fu recuperato da tre squadre di minatori l'11 luglio, quindi quasi un mese dopo. Ecco, minatori. Fu chiamata una squadra di minatori per estrarre il corpo di Alfredino, che intanto era stato congelato con dell'azoto liquido per assicurare almeno la conservazione del corpo. Al tempo non c'era ancora un organo statale come la protezione civile, che avesse quelle competenze specializzate per scavare un pozzo verticale, una galleria suborizzontale e recuperare qualcosa o qualcuno a 60 metri di profondità. Per cui, come vi dicevo, furono chiamati una ventina di minatori dalle miniere di Gavorrano, in provincia di Grosseto, da cui si estraeva perite ferrosa essenzialmente. I minatori non erano esperti di soccorso, ma la conoscenza accumulata grazie all'esperienza nel sottosuolo fu essenziale. I minatori, conoscendo le insidie del sottosuolo, decisero di scavare un pozzo di 80 centimetri circa di diametro, un cosiddetto pozzo di servizio, e lo scavarono stavolta lontano dal pozzo artesiano di Alfredino, a circa una quindicina di metri, perché sapevano che scavando potevano causare dei cedimenti all'interno del pozzo di Alfredino. Quindi scavarono un pozzo di circa 80 centimetri a circa 15 metri di distanza, e poi una volta in profondità scavarono una galleria suborizzontale di circa 16 metri. Riuscirono così ad arrivare ad Alfredino e lo tirarono fuori. Questo compito di tirare fuori un bambino di 6 anni toccò a Spartacostacchini, un minatore. Molti poi si chiesero se Alfredino poteva essere salvato con un intervento immediato di questi minatori. Chissà, può darsi, però è facile parlare dopo, è sempre troppo facile parlare dopo. In questa vicenda, oltre al fatto che fu ripreso tutto 24 ore su 24, i nostri genitori e i nonni ce lo possono raccontare, fu un vero e proprio reality, se vogliamo. Io personalmente non condivido, ma vabbè, lasciamo stare queste cose. Da questa vicenda viene fuori un altro concetto, che io tratto anche molto nel mio libro, che è quello sulla profondità. Su questo pianeta, quando qualcosa è sottoterra, è complicato recuperarla. Giù l'accesso è complicato. È più facile fare un viaggio di centinaia di migliaia di chilometri nello spazio, piuttosto che fare un buco in profondità sul pianeta. Perché questo? È perché è fisicamente complicato attraversare uno spazio pieno di atomi, come può essere una roccia, piuttosto che uno spazio senza atomi. Quindi la profondità su questo pianeta è sinonimo di limite. Lo stesso limite che abbiamo nella conoscenza dei vulcani, dei terremoti, dell'inversione dei poli. Cioè tutti quei fenomeni il cui meccanismo di innesco è nel sottosuolo. Quindi più è profondo, più è inaccessibile. Infatti terremoti e eruzioni non riusciamo a prevederle. Non è un caso. In profondità la conoscenza, almeno per ora, rimane in gran parte inaccessibile. Un'ultima cosa. Due mesi dopo la morte di Alfredino, l'allora presidente del consiglio Pertini, Sandro Pertini, decise di istituire un ministero della protezione civile. Prima che tutto venga strutturato e formalizzato, passarono dieci anni. La svolta definitiva arriva con la legge 225 del 1992 e la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con il compito di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi. Noi forse oggi la protezione civile la diamo un po' per scontata, ma è un errore darla per scontato, perché è un organo che non tutti i paesi hanno. Ora che ci penso mi piacerebbe proprio fare un video su come funziona la protezione civile, dalla scala comunale, regionale, fino a quella nazionale. Fatemelo sapere con un commento se ci può interessare e facciamo un video ad hoc. Amici, io vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui su Geopop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie a tutti!